Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video di Papà in Cucina che lo andrete a vedere tutte le domeniche alle ore 15 sul canale di El Gianmarco Ciao ragazzi E' la gelatina di maiale che praticamente la fanno a Reggio Calabria Questa cosa si fa fatta in casa sarebbe, non è un salume ma alla fine poi si mangia come i salumi Vabbè tipo la simmental comunque Si praticamente è tipo come la simmental, però è fatta in cazza Ci sono sapori che loro mettono, ecco io per esempio sto mettendo come ingredienti pomodoro e sto mettendo anche l'alloro Ora mi devo portare avanti con il video e farvi vedere bene o male come si fa questa gelatina di maiale O il cosiddetto suzu a Reggio Calabria, questa per me è la prima volta Siccome questa cosa che ho mangiato a Reggio Calabria due o tre anni fa mi è piaciuta e sinceramente la voglio portare su Papà in Cucina E farvi vedere a tutti voi anche con la testa di maiale e con i piedi ragazzi Povero maiale Si può fare qualcosa Quindi iniziamo Quindi la stiamo tagliando praticamente a pezzetti Così quando cucina a pezzettini bolle prima Ecco qua Questa è una E questa è l'altra Mettiamo le orecchie Quindi mettiamo pure le zampe all'interno della pentola Aspettiamo un bel paio d'ore abbondanti e ci vediamo dopo E allora ragazzi ora praticamente sta iniziando a bollire Nel momento in cui bolle noi dobbiamo andare a togliere Guardate un attimo tutta questa schiuma nera che c'è nell'acqua Intanto la poliamo qui Quindi dobbiamo togliere questa E questo è tutto il grasso del... Praticamente si Intanto deve cucinare a fuoco più lento è E andare a levare appena fa questo grassetto qua Si deve togliere tutto questo grassetto Comunque ogni tanto ci andate e lo togliete Perché ovviamente man mano si farà sempre un pochettino Non un poco si fa sempre Bravo hai detto bene Quindi tipo ogni mezz'oretta l'ho andata a togliere Esatto si 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 vede Lui ve lo faccio vedere solo la prima volta Ma sappiate che ogni mezz'ora circa lo toglieremo Finché non sarà ben cotto Comunque all'incirca sappiate che cucina un tre orette Allora vedi ho levato tutto il grassetto A dopo ragazzi E allora ragazzi Praticamente dopo la prima bollitura La testa del maiale Si presenta in questa maniera Ora dobbiamo andare a prendere Tutta la carne e spostarla dal brodo E la mettiamo in quel contenitore là Queste sono le orecchie Questa è la testa Visto come si stacca praticamente Dall'osso Perché ora dobbiamo fare esattamente questa situazione qua Dobbiamo staccare tutta la carne dall'osso Arrivati a questo punto Dobbiamo filtrare il brodo Cominciamo a filtrare il brodo Quello che abbiamo cucinato E leviamo la parte più grassa E le parti giustamente che ci sono le ossa Come voi vedete Guardate la mandibola del maiale E proprio senza carne E staccata Ora andiamo a pulire la pentola E rimettiamo tutto Il brodo già setacciato Dentro nuovamente la pentola Dopo una lunga e faticosa pulita Come voi vedete Abbiamo pulito l'interno del tegame E quindi di nuovo pulito Possiamo andare a mettere il nostro brodo O la nostra gelatina La versiamo nuovamente In un tegame capiente Che si presenta in questa maniera Bene o male il colore trasparente della gelatina Sul marroncino E vado a spicchiare tutta la carne dalle ossa Poi la tagliuzziamo E la andiamo a mettere nuovamente nel brodo Iniziamo a prendere la carne E la cominciamo a staccare dall'osso Guardate come si pulisce da solo Dobbiamo prendere tutto Perché questa di qua praticamente è gelatina Questa è la parte dell'orecchio Che andiamo a levare Perché questa parte è dura E prendiamo soltanto le parti più morbide Ma sai che viene voglia di mangiartela Sofì? Vero A me no Vedi che carne so Sì lo so Ma sarà buona Sarà buonissima Non sarà buona? Sì sicuramente È buona Certo Sì sì È a me che mi impressiona Quindi è normale Perché forse hai visto Ecco vedi Questa parte qui come voi vedete È la parte praticamente interna dell'orecchio Noi andiamo a levare la parte più morbida Questa più dura La leviamo E prendiamo un altro Appena praticamente tu puoi prendere Si stacca proprio E prende Prende Guardate ecco Questa è tutta carne Visto come si sfarina Questa carne qui Già è stata cucinata Più o meno a 200 gradi Ora viene nuovamente cucinata Quindi tutti i batteri Che c'erano all'interno Praticamente muoiono Non puoi assaggiare? No Avendo visto già la testa di maiale Mi sono impressionata Io devo dire che l'ho mangiata Certo non sapevo come l'avevano fatta Però ti posso dire che Era molto buona Questa è la testa precisa Noi quello che dobbiamo andare a prendere È proprio la carne Senza andare Ecco di questo è duro Te lo indica La carne stessa Quella che devi prendere Perché si stacca da solo Ah questo è l'occhio praticamente Questo è l'occhio del maiale Questo praticamente Come tu vedi È questa parte qua La mandibola Chiamato in siciliano Un mascedaro Quello che ci mangiamo Praticamente nei carnezieri Che già lo fanno Non così Ma di persone Guarda 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 così Mi sa come se No? Sì Questa è tutta carne Facciamo praticamente Refrattaglie di carne e grasso Io sinceramente parlando Inizialmente Pure io avevo quel senso Di come dire Forse di schifo Chiamiamolo così Però ora Sì bravo Ora Siccome io li mangio Tutte quelle cose che ti ho menzionato Per dire un mascedario Eccetera eccetera Ora Maneggiandoli Sto capendo che praticamente È tutta carne Per cui Cosa mi devo Guarda qua Questa è carne precisa Che poi pensavo Che era tutto cartellaggio L'orecchio Invece no È morbidissimo Signore Ed è rimasto Soltanto questo Del maiale Che lo ripuliamo Nuovamente Ora Questo di qua È duro Quindi Lo laviamo Questo è cartellaggio Visto? Praticamente È il musetto Del maiale Questo è La parte Sopra La bocca Quindi ragazzi Arrivati a questo punto Che tutta la carne Il brodo Già l'abbiamo messo qua Ora andiamo a condire Il nostro Zuzu Quindi andremo a mettere Noi Peperoncino Riepiloghiamo Cosa noi stiamo mettendo Nuovamente Nella pendola Io avevo preparato Qui Del peperoncino Del pomodorino Di pacchino Avevo preparato Anche Mezzo Bicchiere Di aceto Bianco E il sale Più L'alloro Che andremo a mettere Tutto all'interno Le dosi Quanto basta No vabbè Diciamo Poi questo È Sofia Occhio Perché bene o male Se tu ti rendi conto Che Quello che hai fatto Vedi È mezzo bicchiere Di aceto Dobbiamo andare a mettere Anche il sale Che Non l'abbiamo ancora salato Quindi andiamo a mettere Due Cucchiai di sale Lo facciamo Borrire Poi quando lo assaggiamo Andiamo a regolare Nuovamente Quindi ragazzi Viene praticamente Cucinato Questo Dobbiamo considerare Una mezz'oretta Tre quarti d'ora Un'ora massimo Dopo di ciò Lo spegniamo E lo mettiamo Nei contenitori E allora ragazzi Abbiamo finito Di cucinarlo Lo andiamo a mettere Nei barattoli Prendiamo un mestolo Piccolino E da qui Lo prendiamo E lo mettiamo All'interno E' caldissimo Considerate ragazzi Quindi lo riempiamo E lo lasciamo Raffreddare Che caldo E' caldissimo Quindi ora Li riempiamo tutti E ci vediamo dopo Ragazzi Abbiamo fatto Praticamente 5-9 Più questa di qua Di gelatina Di maiale L'abbiamo messa Nei barattoli Per conservarla Perché giustamente Era molta Ora dobbiamo aspettare Che diventi Gelatinosa Per poi assaggiarla Ragazzi Siamo arrivati Praticamente All'assaggio Però prima dell'assaggio Siccome questo è Un piatto freddo E' un piatto Che si accompagna Il primo O il secondo Di solito Quindi potrebbe essere Anche Un antipasto Come si suol dire Questo è il Tsutsu Come vedete Vedete praticamente Che si vede Tutta la carne Della testa Del maiale E' trasparente Si vede Si si Ora ne prendiamo Un poco Naturalmente Consideriamo Che c'è La gelatina E come la simmental Ne più E ne meno Guardatela C'è il pomodoro Qui c'è un altro Pezzettino di pomodoro Ragazzi Si è staccata la ripresa Comunque abbiamo messo La lattuga Passiamo tutto qua Che ci viene Molto meglio A mescolarlo Mettiamo un po' Di limone E mettiamo Un po' D'olio E lo mescoliamo Poche parole Si presenta così Ora ne versiamo Un po' Nel piatto E andiamo a fare L'assaggio Con un po' Di lattuga Tu lo vuoi assaggiare No no Mamma mia E' il massimo Buonissimo Veramente Sinceramente Non me l'aspettavo Buonissime Ragazzi Abbiamo fatto il susu Che l'abbiamo messo Tutte nelle bornie Di conseguenza Questo che abbiamo fatto Oggi Proprio per portare Con la testa di maiale Per far vedere Che non si butta nulla Dalla testa di maiale Perché proprio Sono rimaste Le ossa E se li sono mangiati Bene i piccoli Quindi Non l'ho buttato Niente La testa Gliel'ho comprata 6 euro Quindi non costa Nemmeno niente Sperando che il video Vi sia piaciuto Spolliciate Commentate E condividete Ciao ciao Da Paschi 63 Ciao